buongiorno a tutti allora io mi chiamo leonora polo giusto per sapere chi non chi non mi ha mai sentito sono una ricercatrice del cnr l'istituto il mio istituto è a bologna ma una sede staccata ferrara all'interno del dipartimento di chimica adesso ha un nome ci siamo tutti accorpati per cui è più lungo ma comunque lì dove sono io sono tutti chimici e quindi insegno anche poi didattica della chimica al alla magistrale di scienze chimiche e oggi vi parlo del problema degli oceani ne ho parlato anche negli anni passati ci ho scritto due libri sugli oceani questi qua uno è uscito e hanno chiuso le librerie quando c'è stato il lockdown e poi ho scritto l'altro che più dedicato ai ai ragazzi tipo delle medie dice da uno può leggerlo sempre come è fatto a dialogo si insomma un approccio un po diverso l'altro un po più serioso ma è fatto perché lo legga anche chi non sa la chimica non servono delle competenze pregresse la lezione di oggi minaccia in alto mare non si limita solo al problema della plastica perché in realtà e i nostri oceani che vedremo sono vitali per la nostra esistenza in realtà sono sottoposti a pressioni da tutte le parti anche perché purtroppo come diceva il grande oceanografo già questo noi abbiamo trattato gli oceani tutte le vie d'acqua del pianeta come una pattumiera a buon mercato tanto lì l'acqua si muove e porta via il problema è che essendo ormai arrivati a otto miliardi il porta via è relativo perché sulla terra tutto rimane qui dentro quindi siamo cominciamo a vederla poi non so chi ha visto il film aquaman c'è quella scena in cui le popolazioni degli abissi quelle di atlantide gli atlantidei hanno deciso di ributtare sulle spiagge tutte le armi da guerra e tutte le navi la roba affondata bombe eccetera e tutta la plastica sulle spiagge dalla sera alla mattina ecco se succedesse questo sarebbe veramente un disastro perché c'è veramente di tutto nei nostri oceani tra l'altro una volta rivisto alcuni dei documentari di jacques busto che passavano in televisione in prima serata quando voi avevate la vostra età più o meno alla rai passavano abbastanza spesso ed erano erano molto interessanti rivedendoli a un certo punto ho visto sullo sfondo che mentre stava parlando c'era una sporta di plastica che veleggiava sulle acque ma allora ci lo notavamo ma non con grande attenzione invece adesso queste cose le notiamo di più perché sono diventate decisamente più frequenti ecco uno dei problemi del nostro rapporto con gli oceani è che noi abbiamo un'idea falsata della distribuzione delle acque delle terre sul pianeta perché qualcuno dice ma sarà circa metà no sono i due terzi sono acqua anzi per essere precisi 71 per cento quindi anche un solino di più anche il fatto che gli oceani si dice sono cinque ma questa grafica ci dice che dipende dai libri di testo ma di fatto gli oceani sono uno nel senso che sono tutti collegati quindi uno dice sporco da una parte ma poi va in giro per tutto il pianeta e anche questo è un problema l'unico che diciamo si tiene la maggior parte della porcheria dentro il mar mediterraneo che non è un oceano ma avendo solo tre punti di accesso e anche molto stretti e lì è come un catino quindi tutto ci va dentro e ho dedicato un capitolo al mediterraneo sul libro delle isole di plastica perché noi ci facciamo il bagno nel mediterraneo anche a me interessava sapere cosa ci fosse dentro e anche lì non è un bel vedere perché abbastanza messo maluccio ecco quando nel 68 l'apolo 8 ha visto dalla navicella spaziale sorgere la terra questa sotto è la luna sono rimasti basiti e infatti un in una delle comunicazioni radio il commento è stato ma è una biglia blu ed è rimasto la biglia blu il nome di questa fotografia che ormai fa parte della storia la vediamo in tante salse perché non si aspettavano di vedere di vedere la terra con questo colore se l'aspettavano un po più marroncina tanto è vero che lo scrittore scienziato a tour clark ha spesso sottolineato il fatto che il nome del pianeta è sbagliato se andiamo sulle rapporti da quello che c'è sulla superficie della terra e il nome più adatto sarebbe oceano lui anche scritto un romanzo di fanta biologia dove ci sono gli oceani come protagonisti il nostro problema da dove viene viene dal fatto che siamo abituati a cartine geografiche anche nella parte maggior parte dei libri testo che in realtà non rispettano le proporzioni né fra le terre emerse e gli oceani ma nemmeno fra le terre emerse fra di loro cioè le dimensioni che vediamo nella cartina sinistra sono sbagliate e tutto nasce dalla difficoltà che abbiamo di trasferire un qualcosa che è tridimensionale tra l'altro è un geode non è neanche una sfera perfetta su due dimensioni quindi nel 600 mercatore ha creato questa carta geografica con tutto un sistema di trasformazioni matematiche che permetteva di disegnare su due dimensioni qualcosa un mappamundo il problema è che questa trasposizione falsa le dimensioni per cui sull'equatore siamo abbastanza corretti poi man mano che ci allontaniamo dall'equatore le dimensioni dei continenti e delle acque emersi si alterano diventano inaffidabili per cui ci troviamo con un antate ed è un agro lena groenlandia che sono mostruosamente grandi ma l'africa il sud america e l'australia sono molto più piccoli di quanto in realtà non siano e questo allora quando si navigava vela quel tipo di carta andava bene adesso non più infatti c'è un sito che si chiama equal house dove troviamo un nuovo un nuovo tipo di rappresentazione su due dimensioni però che comunque ci mostra il geode che ci fa vedere le le dimensioni reali cioè l'africa enorme rispetto alla anche su tutta la parte l'emisfero australe è molto ma molto più grande di quello boreale come terra emersa e di quello che vediamo qua cioè è veramente impressionante perché uno si rende conto noi in europa questo e quello ma siamo ben piccolini rispetto al resto comunque un dato di fatto è che noi spendiamo più soldi per le spedizioni spaziali che non per quelle oceaniche il risultato è che abbiamo la mappa completa dell'intera superficie lunare dell'intera superficie di marte ma al momento abbiamo conosciamo solo il 19 per cento dei fondali oceanici fino a cinque anni fa era il 5 per cento adesso è partito un progetto che si chiama seabed 2030 che vorrebbe per quella data tracciare la mappatura dell'intera superficie dei fondali perché non ne sappiamo niente ci saranno specie animali e vegetali che non conosciamo ci permette anche di capire dove va a finire una parte della spazzatura perché quello che galleggia non torna il conto con quello che viene buttato ogni anno quindi il problema è dove andata a finire visto che non c'è la bacchetta magica questa è la situazione attuale tutto quello che è in nero e la parte sconosciuta che non è stata esplorata invece dove troviamo dei colori chiari lì invece abbiamo la mappatura allora vediamo che il mediterraneo è quasi tutto mappato tranne una parte della costa nord africana sappiamo tutto un po tutti i mari del nord le coste perché perché lì ci sono i porti quindi quando si deve costruire un porto bisogna sapere come fatto sotto altrimenti le navi si incagliano il giappone è molto mappato in questa zona per un semplice motivo che essendo una zona altamente sismiche abbiamo visto cosa è successo alle isole tonga tutto lo tsunami che segue ogni eruzione vulcanica anche semplicemente un terremoto l'onda la grande onda come quella di okusai si carica in funzione di come è fatto il fondale marino cioè la morfologia del fondale fa sì che l'onda sotto la parte che noi non vediamo è come una molla si carichi e quindi ne determina l'altezza e anche la potenza quindi il giappone che uno dei maggiori finanziatori di questo progetto lo ha fatto perché per loro è veramente una questione di vita o di morte quindi ci stanno lavorando da un po di tempo poi vediamo tutta questa massa di fili e questi sono i cavi sottomarini cavi per internet per le telecomunicazioni le rotte dei sommergibili perché questi qua devono sapere dove si muovono e quindi quando viene posato un cavo che viene posato sul fondo del mare dopo vedremo anche l'immagine di come sono fatti i cavi di internet devono sapere dove si appoggiano e altrimenti succede questo guaio dunque a novembre abbiamo c'è stato il rischio di un incidente diplomatico molto pesante fra gli stati uniti e la cina perché perché un sommergibile a un certo punto è andato a sbattere contro qualcosa in acque internazionali e allora subito gli stati uniti hanno accusato la cina di averli attaccati con dei sommergibili più piccoli insomma alla fine ci hanno messo un pochino sono arrivati dopo un mese hanno capito che in realtà avevano erano finiti contro una montagna sottomarina che non c'era sulle mappe evidentemente lì c'era un buco nella rilevazione e quindi questo ci dà il senso di quanto sia importante sapere quello che ci sta sotto perché lì si rischiava un conflitto insomma è stato un momento abbastanza difficile un altro problema è che gli oceani le zone marine oceaniche sono poco protette perché le aree naturalistiche terrestri e qui vediamo tutti gli spot verdi sono il doppio in superficie rispetto a quelle marine che sono invece le chiazze blu scuro però gli oceani sono molto più grandi quindi in proporzione sono protetti molto di meno dovrebbe esserci almeno tre volte per rispare rispettare i rapporti con quelle terrestri invece non è così e il la terra e il mare sono collegati indissolubilmente c'è un matrimonio che non si può rompere perché se si rompe e muore il pianeta diciamo che i più vulnerabili siamo noi umani perché in fondo il nostro pianeta può vivere anche senza di noi ma noi non senza il pianeta ecco dobbiamo sempre ricordarcelo in maniera molto spiccia l'esploratore e biologo norvegese tor ejerdal ha detto c'è hanno morto pianeta morto punto voi siete giovani quindi no probabilmente non ne avrete sentito parlare hanno fatto qualche anno fa hanno girato un film sulla parte diciamo i primi anni delle sue esplorazioni ma è un personaggio che uno si vede questo è reale indiana jones è un personaggio da cinema però questo gli dà dei punti perché in mezzo all'oceano pacifico con i cavalloni che girano su una zattera di balsa quello minoli e lui perché è diventato famoso per avere compiuto delle esplorazioni ricostruendo ne ha fatti almeno quattro grosse poi ne ha fatti anche su terra ma quelle marine ognuno ha un libro che la racconta sono molto interessanti perché hanno cercato di ricostruire i viaggi dei nostri antenati perché le imbarcazioni che noi riteniamo molto fragili che troviamo nei musei oppure nelle pitture antiche in realtà erano in grado di attraversare anche centinaia di chilometri in oceano aperto in condizioni assolutamente proibitive e sfruttando le correnti marine e quindi ha dimostrato la possibilità di migrazione di popolazioni anche da un continente all'altro cosa che non si pensava possibile quindi ci sono dei gusci di noce e però se uno sa fare a guidare si può fare e quindi con un gruppo di altri esploratori un po matti come lui perché lì veramente siamo la prima del 47 quindi pensiamo anche i mezzi di allora hanno compiuto la prima il contichi ed il nome dell'imbarcazione sono partiti dal perù con una satera di legno di balsa rifatta come facevano le popolazioni del sud america ed è arrivato alle isole hawaii sono 4300 miglia in 101 giorni quindi un viaggio pazzesco ha scritto un libro lui scrive anche molto bene per cui scriveva perché è morto qualche anno fa sono anche molto godibili ed erano tutti c'era 12 che erano esperti di navigazione gli altri hanno proprio le prime armi e con questa che hanno fatto il viaggio sono arrivati proprio si è schiantata con la risacca sulle sulla barriera corallina nelle isole hawaii poi vent'anni dopo ha compiuto un'altra spedizione dal marocco fino alle isole barbados usando una una piroga fatta di papiro fatta come quelle che sono delle tombe dell'antico egitto vedete che ci sono due spedizioni in realtà perché la prima si è interrotta a poca distanza diciamo aveva percorso l'ottanta per cento della rotta perché è affondata la punta li avevano fatto fare l'imbarcazione alle popolazioni del del chad credo che hanno usato le vecchie tecniche però le loro tecniche non prevedevano questo ricciolo anteriore e soprattutto nei disegni delle tombe egistie c'era questo riccio e poi c'era un cavo che lo teneva attaccato all'albero maestro e loro hanno pensato che fosse una cosa puramente decorativa hanno scoperto cosa serviva in quel momento lì perché evitava che il legno si inzuppasse più di tanto un certo punto del viaggio il legno è sprofondato quando l'hanno rifatta esattamente uguale ma con il ricciolo sono arrivati a destinazione quindi se c'è disegnato è perché serve nel primo viaggio air dal attraversando la rotta atlantica si accorto che c'erano dei detriti galleggianti in acqua siamo nel 69 e aveva contattato l'agenzia dell'ambiente dell'onu gli aveva fatto presente il problema quindi nella seconda spedizione ha raccolto per conto dell'onu tutta una serie di campioni di acqua lungo il percorso in modo che potessero cominciare a studiare lo stato dell'inquinamento dell'oceano atlantico quindi in realtà il problema è molto più antico di quanto noi siamo abituati a pensare poi l'ultima spedizione perché dopo cominciare avere anche una certa età insomma lì ci vuole un fisico abbastanza robusto per cominciare avere un po di anni l'ha fatta circon navigando con l'imbarcazione il tigris la penisola arabica come durata è stata una delle più lunghe e anche lì ha dimostrato che le popolazioni dalla dalla zona tra il tigre e l'eufrati in realtà potevano arrivare fino a su est in india in tutti i paesi con imbarcazione di quel genere e quindi lui quando è uno che l'oceano ce l'ha proprio nelle vene un po come jacques custod vediamo cosa servono perché gli oceani sono fondamentali per l'approvvigionamento di sostanze per l'equilibrio del pianeta sotto vari aspetti intanto è un ecosistema unico quindi ci vogliono tutti i pezzi i nutrienti i gas e i liqui passano dalla terra all'oceano in continuazione noi andiamo a prendere nell'oceano un sacco di sostanze chimiche medicinali estratte soprattutto da animali un tipo molluschi e le prendiamo anche dalle piante marine perché siamo sempre alla ricerca di farmaci nuovi di nuove strutture molecolari ce ne sono ho trovato un articolo dove c'era proprio l'elenco e ci sono almeno una quarantina di sostanze estratte dalle specie marine sostanze che non si trovano in ambito terrestre che sono importanti alcune sono tutte nei vari stadi di sperimentazione alcuni sono arrivati alla fase 3 quindi ormai sono pronte per entrare in circolazione e sono soprattutto anti infiammatori antidolorifici antitumorali e antibiotici il problema degli antibiotici è una cosa seria perché purtroppo gli antibiotici vanno incontro sempre più rapidamente al fenomeno della resistenza quindi esce una molecola nuova dopo sei mesi c'è già una specie batterica che ormai non risponde più e lì abbiamo tutto il capitolo delle infezioni ospedaliere dove lì in un ambiente così sterilizzato ovviamente si selezionano le specie che sanno resistere a questo trattamento quindi puoi debellarle è molto molto difficile di conseguenza si cerca qualcosa di diverso strutturalmente e la biochimica di alcune specie marine è molto particolare rispetto a quelle terrestri anche i funghi sono un mondo a sé perché ci sono proprio visto mi ricordo che ho seguito delle conferenze di colleghi di pavia che lavoravano sulla chimica delle sostanze che si trovano nei funghi soprattutto quelli tossici e ci sono delle strutture molecolari molto molto particolari quindi è molto interessante perché una cosa nuova può funzionare perché scappa dallo schema consolidato poi c'è hanno un effetto regolatore del clima assorbe la maggior parte del calore del pianeta perché perché scuro la gente pensa che i ghiacciai siano quelli perché sono freddi che assorbano il calore ma il ghiaccio è bianco il bianco un colore che riflette le radiazioni visibili invece gli oceani sono più scuri quindi assorbono il calore e quindi lo regolano infatti si sa che i posti di mare hanno un clima più temperato cioè non ha degli sbalzi proprio per grazie all'effetto del mare ma hanno anche un effetto sulla nostra respirazione perché negli oceani viene assorbita il 27 per cento dell'anidride carbonica perché negli oceani noi abbiamo il fitoplancton e le alghe che fanno la fotosintesi come le piante terrestri metà del dell'ossigeno che viene respirato sulla terra viene da questi esseri microscopici che contengono delle dei pigmenti fotosintetici infatti sono tutti verdini azzurrini non a caso infatti noi pensiamo alle foreste come i polmoni del pianeta e forse sono un polmone l'altro polmone sono il fitoplancton e le alghe e vediamo vedremo che anche l'inquinamento mette a rischio la capacità diciamo respiratoria del degli oceani poi ci danno da mangiare nel senso letterale del termine noi consumiamo pesce c'è il 20 per cento delle proteine animali che entrano nella dieta degli umani viene dal pesce il consumo di pesce sta aumentando in tutto il mondo è molto più alto in alcune zone del pianeta come vediamo dal dalla grafico un po più basso in altre questo al vedremo altri problemi perché soprattutto la pesca industriale adesso sta mettendo a rischio sia la biodiversità che anche la possibilità di avere pesce perché quando viene pescato oltre i limiti di recupero poi dopo le specie spariscono i grandi cetacei si sono ridotti in maniera impressionante negli ultimi 50 anni cioè si stanno un po svuotando e in compenso noi mangiamo sempre più pesce anche perché siamo anche tanti di più e poi ci dà da mangiare nel senso che da lavoro perché la pesca industriale essendo molto altamente tecnologica impiega meno addetti di quella tradizionale ma tra tutte e due si parla di 12 milioni e mezzo di persone poi c'è tutto l'indotto che sta dietro alla pesca quindi chi lavora nei porti la tutta la filiera di lavorazione dei prodotti che vengono dalla pesca quindi è una fonte di reddito molto molto importante soprattutto nei paesi asiatici perché lì si concentra anche il grosso della pesca industriale noi poi usiamo il mare per spostare le merci l'ottanta per cento di quello che viaggia le merci che viaggiano viaggia via via acqua ma da sempre perché costa meno è più facile trasportare via acqua che non via terra o via aria che è molto molto più costoso questo avrà vedremo anche un impatto a livello climatico perché queste qua di solito vanno a gasolio quindi effetto serve emissioni di anidride carbonica sono all'ordine del giorno in più la tendenza è di costruire dei cargo commerciali sempre più grandi questa è la più grande nave che esiste cioè lunga quasi 400 metri fate conto che ercole d'este è lunga un chilometro dal castello alla casa del boia è quasi immaginate una cosa che quasi circa metà di ercole d'este ma larga 60 metri quindi molto ma molto più larga della strada quindi è è un mostro ci possono stare quasi 24 mila container dopo se succede un incidente ovviamente è un macello il caso classico è stato l'anno scorso quando all'inizio dell'anno nel canale di Suez questa è una foto satellitare un cargo enorme di questi qua di questi mostri si è incastrato nel canale praticamente hanno sbagliato manovra e si è messo di sbieco e ha bloccato per una decina di giorni il traffico in entrata uscita dal canale hanno mandato rimorchiatori per spostarlo e tirarlo anche dall'italia cioè si sono tutti impegnati perché per il traffico mondiale delle merci è stato un macello addirittura avevano pensato come estrema risorsa di scaricare tutto e portarlo via via terra le merci perché c'era anche bestiame quindi quelli muoiono se non dai da mangiare cioè era una cosa abbastanza catastrofica che ci dice che facendo delle navi così grandi poi se succede un guaio il guaio è moltiplicato queste sono le mappe del commercio internazionale via mare tutti quei filini ed è un caos c'è un miracolo che non si sono non si scontrino mentre viaggiano perché poi ci sono quei punti stretti come gibilterra su est nel golfo di aden ci sono quei punti dove o panama dove lì sono dei colli di bottiglia ci sono addirittura dei siti dove si può vedere quante navi stanno girando e allora uno va lì e vede quante navi girano in un'altra diapo messo le il link poi ci sono i puntini uno clicca e ti dice che nave cosa quanto è grande come si chiama da dove viene eccetera uno non sa cosa fare si può anche divertire così poi noi traiamo dagli oceani anche risorse non rinnovabili per esempio petrolio e gas perché nei fondali oceanici e c'è tanta roba non ci sono solo sulla terra e questi sono questa è una diapositiva che ho trovato in giro dove ci sono tutte le tipologie di piattaforme che si usano compreso il fatto che a volte si usano le navi direttamente i cargo per fare questa operazione a seconda della profondità del fondale marino di come è fatto si usano sistemi differenti a volte sono proprio ancorati con le fondamenta quando non è troppo profondo altrimenti ci sono praticamente dei tiranti e dei ganci è un problema anche dal punto di vista ambientale perché se succede qualche guai a una piattaforma e vedremo fra un attimo cosa i disastri che possono produrre i danni sono molto molto pesanti comunque un terzo del petrolio del gas naturale viene dai depositi oceanici ovviamente un deposito molto è un petrolio molto più costoso di quello che si è stare dalla terraferma cioè il sistema più economico di tutti quello che costa meno estrarre è quello dei paesi dei paesi del vicino oriente perché lì è più facile trivellare ecco cioè fa il buco e viene fuori adesso di quei giacimenti lì sono vent'anni che non se ne trovano più fatti in quel modo ci sono altri sistemi ma comunque tutti di impatto ambientale peggiore e molto ma molto più costosi quelli in mare costano infatti il petrolio del mare del nord che riforniva l'inghilterra a un certo punto è diventato poco poco conveniente perché quando è sceso molto il prezzo del petrolio dei paesi arabi quello lì costava troppo la crisi che ha avuto il venezuela è dovuta proprio a quello perché loro usano gli scisti bituminosi altri sistemi non hanno la trivellazione tradizionale e quando è sceso il prezzo di quello loro non sono più riusciti a vendere il loro petrolio e hanno la crisi che c'è adesso dagli oceani noi cominciamo a recuperare anche energie di tipo rinnovabile una è quella dei parchi eolici marini ma si possono sfruttare e si sta già cominciando a fare una cosa del genere sia la molto ondoso perché in realtà essendo un movimento se uno mette una pala collegata a una dinamo insomma come pedalare una bicicletta con la differenza che le maree in alcuni punti viaggiano nel pianeta io sono stata a Mont Saint Michel e a Saint Malo e ho visto salire la marea è abbastanza impressionante perché riesce cioè viaggia a parecchi chilometri all'ora e in poco tempo sale diciamo è fa un certo effetto adesso dovrebbero metterne anche qualcosa vicino per sfruttare il moto ondoso vicino al nord della sardegna perché se uno va via traghetto a olbia o a golfo aranci nell'ultimo tratto anche se prima il mare è una tavola quando arriva lì si balla sempre perché perché c'è un incrocio di due correnti che creano sempre moto ondoso quello lì può essere sfruttato cioè sono installazioni sottomarine sfruttano qualcosa che comunque c'è naturalmente non sono neanche estremamente invasive dal punto di vista esterno come invece altri tipi di installazioni poi e gli oceani sono una fonte di risorse anche minerarie perché sul fondale oceanici ci sono dei depositi di alcuni metalli che tra l'altro sono molto importanti per le nostre tecnologie e ce ne sono di alcuni diciamo molto di più in mare guardiamo la grafica al centro ce n'è di più in in oceano che non sulla terra ferma come per le piattaforme petrolifere perché la tecnologia abbastanza simile nella prima parte dell'installazione il i costi sono molto alti però per esempio per le famose terre rare che sono ormai indispensabili ovunque hanno trovato un giacimento a largo del giappone e quindi stanno cominciando a studiare come fare un tipo di trivellazione lì hanno l'handicap come è stato anche per fukushima eccetera della sismicità del territorio e anche degli oceani perché lì scuote tutti i giorni cioè dopo noi sentiamo il terremoto in giappone quando raggiunge dalla ritter diciamo dal 5 6 dal 6 in su perché non li citano neanche ma in realtà lì balla sempre tutto costantemente perché sono proprio sulla faglia quindi anche questo è una è una fonte di risorse e ci sono due tipologie di giacimenti cioè i noduli polimetallici che sono nelle piani abissali quindi sono molto molto in basso poi ci sono i solfuri polimetallici che sono un po meno profondi e le croste di covalto che sono in quelle che chiamano le le montagne e marine e per quello ci serve anche avere tutta la struttura del fondale per capire come muoverci anche per l'attività estrattiva di solito i solfuri si trovano polimetallici si trovano dove ci sono le bocche tipo delle fumarole quindi quelle bocche che collegano in qualche modo al magma che sta sotto e quindi c'è sempre dello zolfo ci sono un sacco di metalli importanti se pensiamo anche alle tecnologie nuove elettriche auto eolico celle solari eccetera abbiamo bisogno di una serie di metalli per le batterie e li abbiamo ferro cobalto nichel manganese rame sono tutti metalli che sono utili per queste cose certo anche questo costa di più che farlo sulla terraferma questo è inevitabile vediamo un po i pericoli perché questo è quello che ci dà l'oceano che ci dice tienitelo caro perché ti serve ma sarebbe anche tienitelo caro perché dovresti avere cura del pianeta in cui abiti come della casa in cui stai tutti i giorni però anche volendo essere solo venali ce lo dobbiamo tenere caro comunque e ho trovato questa vignetta questa immagine quando cercando c'è in pericolo volevo un immagino tra la bottiglia di plastica ovviamente tutti pensano quello è la punta dell'iceberg il problema del pericolo è quello che dicevo all'inizio gli oceani sono tutti collegati per cui quello che si sporca da una parte poi va in giro per tutto il pianeta ecco perché tutte le azioni che si intraprendono dovrebbero essere fatte come dicono sempre nell'agenda 2030 tutti insieme perché altrimenti non ne usciamo ecco c'è un fatto interessante che legato alle correnti marine esiste quello che chiamano il nastro trasportatore globale in e come una striscia di correnti che si generano per vari effetti sali in differenze di salinità temperatura maree la rotazione della terra che genera la forza di corioli la forma delle terre emerse fanno sì che si crei questa specie di tapirulanti correnti largo circa 50 miglia nautiche che attraversa tutto il pianeta quindi una roba che entra da una qualche parte poi viene portata a spasso per tutto il pianeta semplicemente da questa corrente qui vediamo che ci sono degli anelli oppure anche semplicemente delle anse questi sono i luoghi dove tende a concentrarsi il materiale e non a caso è lì che troviamo le famose isole di plastica perché è proprio un effetto delle correnti marine questo lo dimostrano anche i programmi di simulazione questo si chiama oscurs è il programma che ha usato la nasa per realizzare questa simulazione volevano capire se effettivamente la localizzazione delle zone di accumulo della plastica dipende solo ed esclusivamente dalle correnti marine e in effetti se li lasciamo le lasciamo lavorare per circa due anni e mezzo la roba va a finire proprio dove troviamo queste strisciate più qualche golfo perché lì è una questione come qua qua si ferma perché essendo cilindria qui fa da frangiflutti e quindi blocca le cose però essenzialmente sono le zone di accumulazione dove le correnti marine tendono a portare tutto quello che galleggia queste sono le minacce sono sei alcune sono cose di cui si parla di più altre invece sono un po meno note perché sono un pochino più specifiche partiamo dall'inquinamento che è quella più grossa l'inquinamento può essere di due tipi di solito si pensa a quello chimico quindi plastica gli sversamenti di petrolio l'inquinamento delle acque pensiamo quello che arriva dalla terra ferma pesticidi un po tutto pop sono gli e persistent organic pollutants sono gli inquinanti organici persistenti cioè sono quelle sostanze organiche che sono in giro sulla terra che da degradare sono dei sassi sono per esempio le diossine ancora il ddt gira gli idrocarburi policiclici robe che vengono fuori anche per esempio dagli inceneritori quando si bruciano certe sostanze oppure i pesticidi insomma un po è un mix poi abbiamo i fertilizzanti e poi una cosa di cui non si parla tanto sono gli esplosivi e armi chimiche abbiamo usati sempre come tomba anche per questi e poi abbiamo la radioattività abbiamo anche l'inquinamento acustico e quello elettromagnetico entriamo un po nei dettagli perché c'è abbastanza allora sicuramente la porcheria che finisce in mare per l'ottanta per cento anzi per essere precisi l'ottantuno per cento arriva dalla terra ferma quindi diciamo che ci siamo dentro un po tutti non è che ci sia una volta pensavano che fosse colpa solo della navigazione delle attività marittime quelle contribuiscono ma molto meno di quelle terrestri perché noi siamo di più sulla terra che sul mare quindi la produzione dei rifiuti e anche in proporzione agli umani che ci stanno questa è una in questo articolo in questo istituto hanno creato una mappa interattiva quindi ho catturato una schermata che dà un po il la mappa dell'inquinamento quindi e i palloncini viola e inquinamento da plastica quelli gialli sono altro che vuol dire e soprattutto sostanze chimiche ma non solo armamenti eccetera il verde e non è stato definito cioè vuol dire che si sa che c'è inquinamento ma non hanno ancora fatto le valutazioni di che cosa si tratta in maniera specifica magari un misto di tutto quindi vediamo che abbiamo delle concentrazioni particolari e poi abbiamo le famose strisciate che abbiamo trovato anche nella simulazione la plastica sicuramente è un po quella di cui si parla di più perché perché ne produciamo centinaia di milioni di tonnellate tutti gli anni e un 5 8 10 per cento li è difficile dire perché c'è una parte di legalità che non si riesce a quantificare e finisce nelle vie d'acqua del pianeta e alla fine quando va in un corso d'acqua poi alla fine l'oceano come dico nella valle di tutto il resto che danni provoca la plastica sono un sacco allora il primo danno è che è brutta da vedere cioè se noi guardiamo questa immagine speriamo che parte il collegamento perché ogni tanto ecco sicuramente nessuno piazza il lettino e l'ombrellone vicino una discarica è un problema estetico perché è brutto da vedere tra l'altro lì c'è un mare meraviglioso davanti ma è anche un problema economico cioè in italia con tutta la sua estensione di coste spende ogni anno tra privati e amministrazioni decine di migliaia di euro per ripulire spiagge e ritorali perché altrimenti i turisti scappano via quindi poi dopo è un impegno anche per le risorse della collettività questa è la prima cosa che viene in mente però dopo c'è il problema per esempio questo è abbastanza noto delle reti fantasma le ghost net che sono il materiale da pesca abbandonato o che si rompe o che viene mollato lì quando è rotto nessuno aggiusta più le reti sono di nylon costano poco una volta si recuperava tutto si rassettavano si rimettevano a posto adesso vengono mollate lì e sono un pericolo per la navigazione ma anche per le specie marine perché continuano a pescare a vuoto alcuni di questi tipi di reti sono sono anche centinaia di metri anche un chilometro quelli da pesca industriale quindi tirano su tutto quello che incontrano anche mammiferi di una certa stazza anche pesci grossi ma rovinano anche come vediamo qui sotto le barriere coralline perché quando ci si adagiano alla fine arpionano la roba con le correnti il naglio diventa pesante quando è bagnato fa la ceretta al fondale e strappa tutto ma è in mare poi in realtà ogni oggetto un pericolo se non si degrada perché c'è sempre la specie che ci può finire incastrata dentro magari ci finiscono come questi poveri bestie da piccole non riescono a liberarsi e ci crescono in qualche modo intorno questo è una cosa che si deve far riflettere adesso stanno lavorando molto sugli anelli per le per le bottiglie infatti adesso usano delle colle in modo che li tengono attaccati dei bollini collosi in modo da non usare questi per questi sono dei killer gli anelli oppure altre ditte li fanno in materiale che può essere mangiato dai pesci cioè addirittura non solo compostabili ma commestibili in modo che se finisce in acqua viene disfatto subito tanto problema è quello che vi dicevo della fotosintesi perché perché se noi abbiamo l'acqua torbida quindi c'è della roba in sospensione i raggi ultravioletti non riescono ad andare molto a fondo come nell'acqua limpida e cosa succede si riduce la fotosintesi ma la nitide carbonica rimane lì e la rende l'acqua leggermente acida in fondo tutte le bevande gasate sono acide se uno ha problemi di stomaco la prima di gastrite riflusso cose simili la prima cosa che gli dicono di non bere niente di gasato acqua compresa perché comunque è leggermente acida è proprio la co2 quando si scioglie in acqua diventa acido carbonico un pochino acido è cosa fa attacca il carbonato di calcio delle strutture di coralli molluschi quindi tutto il conchigliame anche altri organismi marini vengono attaccati nei casi estremi viene proprio letteralmente mangiato il corallo questo è un esperimento invece su una conchiglia hanno preso le conchiglie vuote di una specie dell'antartile hanno fatto questo esperimento ha messo le conchiglie ognuna in un contenitore differente di acqua di mare poi hanno fatto gorgogliare con un tubicino della nitide carbonica in quantità crescenti man mano che si passava da una all'altra e dopo un mese e mezzo hanno visto come si erano ridotte le conchiglie quindi la prima è quella dove non hanno messo la nitide carbonica e poi via via che andiamo avanti ce n'è sempre di più e vediamo che la struttura pian piano si corrode diventa opaca poi si rompe cioè se ci fosse stato l'animaletto sarebbe diventato pasto per qualsiasi predatore quindi è un problema molto serio anche per gli ecosistemi qualcuno l'ha chiamata all'osteoporosi del mare perché di fatto è assomiglia un po quello che succede invecchiando le nostre ossa che diventano più spugnose più fragili altro problema è lo squilibrio degli habitat perché la plastica quando si sposta può fare da zattera e trasportare specie aliene da un posto all'altro quando arriva una specie aliene in un habitat che non è il suo può soccombere oppure può colonizzarlo se è molto aggressiva perché non ha i suoi predatori e quindi può distruggere tutto se si sistema dove pensiamo le zanzare tigre con le nostre si sono ambientate benissimo con quelle nostre rane perché fanno i turni quando smonta una comincia l'altra quindi non si litigano il territorio e noi grattiamo dal mattino alla sera anche alla notte lo spostamento può portare non solo le specie invasive ma hanno trovato anche dei vibrioni del colera su dei frammenti di plastica quindi adesso siamo un po più sensibili a queste cose visto la situazione in cui ci troviamo ma possono essere anche un veicolo di epidemie future anche in questi qua oltre a tutte le altre bestie questo è il il lo tsunami del 2011 con dopo seguito al terremoto che poi è quello che ha disfatto la centrale di fukushima in giappone è stato un mega laboratorio vivente proprio su questo aspetto qui vediamo delle specie marine giapponesi che già dopo sei mesi si trovavano sulle coste del canada e a distanza di tempo questo articolo del 2017 hanno fatto proprio un censimento di tutte le specie costiere marine che sono finite su continenti americano e sono circa 280 pensiamo un detrito questo c'ha tutte le conchiglie appiccicate e quindi se questo arrivato sono arrivati dei frigoriferi sulle coste o una foto da qualche parte di un frigo con tutte le conchigliette ci sono attaccate appiccicate dappertutto questi sono batteri è la colonizzazione di specie batteriche della plastica è una cosa che soprattutto le spedizioni francesi nell'atlantico hanno cominciato a studiare già da qualche anno per un po non ci ha pensato nessuno poi dopo adesso come stanno cominciando a preoccuparsi un po di più l'ultimo problema della plastica che è un materiale mimetico è nato proprio per copiare i materiali naturali pensiamo alla celluloide il problema qual è che se la mangiano perché assomiglia al loro cibo preferito le tartarughe spesso mangiano i pezzi di sportine di plastica perché perché assomiglia le meduse di cui vanno ghiotte gli albatros si mangiano i lacendini bic perché assomigliano ai crostacei semi trasparenti di cui vanno matti quindi c'è anche questo problema l'ingestione poi provoca danni di vario genere perché se ci sono delle punte delle superfici taglienti possono provocare lesioni interne oppure in alcune specie non vengono mai eliminate oppure vengono eliminate solo un certo punto dello sviluppo come negli albatros quindi si ritrovano con l'apparato digerente pieno di plastica quindi quando mangiano il cibo non ci sta più dentro quindi via via si indeboliscono e poi possono anche morire il caso tipico è quello degli albatros di lysa spesso vivono in mezzo a una riscarica praticamente e un terzo delle nidiate muore perché appunto non riescono ad arrivare al quinto mese perché sono troppo pieni di plastica al quinto mese gli albatros hanno un sistema naturale che serviva in origine a eliminare non so i vecchi dei calamari le lische dei pesci che non potevano digerire fanno un bollo e si fanno una bella vomitata se il piccolo arriva ai cinque mesi dopo riesce a eliminare la plastica in quel modo lì perché periodicamente lo fa ma se arriva troppo stipato di plastica prima non riesce a sopravvivere infatti le carcasse di albatros tutti pieni di plastica sono tipiche di esemplari giovani poi dice ma non è piccolino l'albatros adulto arriva anche a due metri di apertura all'area in alcune specie per cui anche i piccoli sono belli grandini ecco non sono dei pulcini sono delle belle bestie questo è un cartone che si porta si portava ai congressi una biologa delle hawaii ed è tutto quello che ha trovato dentro lo stomaco di un singolo albatros lei li ha anche divisi con molta pazienza per colore a modi quadro astratto vi ho evidenziato lo spazzolino dei denti intero e i quattro accendini bic il problema della plastica ingerita anche un altro aspetto oltre a quello meccanico c'è un problema chimico perché la plastica non viaggia mai da sola di per sé stessa chimicamente non fa danni sono più meccanici ma non chimici il problema è che ha dentro spesso delle sostanze altre aliene dicono e sono o le cose che ci mettiamo noi in fase di lavorazione per modificarla per renderla più lavorabile come plastificanti che hanno effetto anche sull'apparato riproduttore e per noi anche sulla tiroide ma anche gli inquinanti che tira su strada facendo che sono dispersi in mare quindi può fare da spugna poi quando viene mangiata il dubbio che noi abbiamo è resterà questa roba chimica attaccata al frammento e quindi come entra esce se esce nei moluschi resta tutta dentro nelle cozze o altre cose ma oppure cede qualcosa ai tessuti perché se cede entra nella catena alimentare come fa a vedere la vignetta in cima ci siamo anche noi sarebbe il bioaccumulo poi c'è la bio amplificazione pesce grande che mangia pesce piccolo c'è questa come la fiera dell'est che quello che si mangia quello che si mangia quell'altro alla fine lo mangiamo anche noi e ci becchiamo tutta la catena alimentare infatti è per quello che i nutrizionisti dicono di non mangiare molto i grossi predatori tipo gli squali o se uno prende il gattuccio è uno squalo anche lo smeriglio che a volte se vede il trancio non vede che era uno squaletto e i grossi tonni quelli da scatolette no perché per le scatolette ci mettono i tonnini piccoli cioè quelli di meno minor pregio quelli belli vengono usati per il sushi che costa molto di più quindi e dice mangiarne di meno perché tra mercurio altre sostanze sono quelli che sicuramente hanno accumulato tutta la catena alimentare è meglio prendere le cose piccole negli stadi primi così ne hanno tirato su di meno c'è anche un'altra cosa interessante che la il fatto che gli animali le specie marine hanno imparato a convivere con la plastica a me piace molto questa immagine e con la lattina voi non dice ma cosa c'entra la lattina di plastica con la lattina di alluminio con la plastica c'entra perché in realtà tutto l'interno di qualsiasi lattina è rivestito di plastica altrimenti l'acidità della bibita forerebbe l'alluminio per reazione chimica se provate a mettere in un po di aceto anche un pezzettino di stagnola occhio che esce l'idrogeno quindi niente fiamma in giro vedete le bollicine ma sta già reagendo si buca in un attimo quindi in realtà questo è un esperimento che c'è un video di dario bressanini dove fa vedere lui le ha sciolte ha sciolto l'involucro esterno di alluminio lasciando solamente questa è una fanta questa è una coca lasciando solamente la parte diciamo il rivestimento quindi la plastica c'è ma non si vede queste sono foto di specie che hanno imparato a convivere a volte ci convivono così bene che non vanno più via vi faccio vedere questo filmato spero che parta subito ok e è solo non eccolo qua non c'è audio c'è solo musichetta quindi se non la sentite non è importante lo accelero un po perché è un biologo che si era immerso e sta cercando di convincere questa specie di otto siamo in malesia a mollare il bicchiere di plastica per una conchiglia solo che è un po schizzinoso il colpo quindi non non grazie a tutti 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 grazie a tutti